My Face My Work è un racconto fatto di racconti, una storia nata qualche anno fa. Io sono un sognatore, uso gli strumenti che sento miei per creare progetti che ritengo abbiano un concetto profondo e umano. Se volete saperne di più, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i nuovi episodi. Io sono Fabio Massimo e questo è... My Face My Work Forse sta roba mi fa sentire umano, c'è molta gente che fa la fama, raggiunge la fama. E... non lo so, forse perdono un po' la percezione della realtà, no? Ciao Gabriele, come stai? Tutto bene, grazie. E tu? Tutto bene, grazie mille. Con quale nome si è conosciuto? Sono conosciuto col nome di Gabriele Anagin. Che lavoro fai? Faccio il tatuatore, intrattenitore, dicono influencer, famose l'anna bene, quindi un calderone di roba. Uno di tutto. Se mi dai mezza piotta per far qualcosa, può essere che la faccio pure. E' ciò che sognavi da bambino? No, non era ciò che sognavo da bambino. In realtà ero destinato a un percorso di studia, di jurisprudenza. Ero un po' indeciso, no? Sai, faccio l'avvocato, no? Faccio il veterinario. Quindi assolutamente no, non era quello che mi ero prefissato. Però poi col tempo ho trovato un po' il mio percorso, no? Cosa ti piace fare nel tempo libero quando non sei sui social? Allora, in realtà nel tempo libero mi piace un po' godermi tutti i momenti della quotidianità, no? Una vita che soprattutto negli ultimi due anni è stata parecchio frenetica. Mi ha impegnato tantissimo il tatuaggio, mi ha impegnato tantissimo poi tutto il contorno che possa essere, ecco appunto come stavamo dicendo, l'utilizzo dei social e di tutte poi le dinamiche che sono create intorno a questo. Quindi quando ho tempo libero, quando in realtà ho tempo, mi piace ecco godermi la casa, godermi la mia compagna, il cagnolino e poi se ovviamente c'è tempo e si riescono a incastrare le cose pure viaggiare, però quello penso un po' a tutti. Quando hai iniziato sui social e perché? Sui social in realtà ho iniziato subito, appena ho cominciato a tatuare per spingere appunto la mia arte. Inizialmente Facebook perché ti parlo di nove anni fa e poi nel tempo ovviamente siamo sfociati e sbarcati anche su Instagram, no? E ho sempre lavorato associando un po' anche il mio personaggio, anche quando non c'erano numeri, no? Ho sempre postato foto di me da Bonazzo al mare, io Bonazzo in posa, proprio per dare un contesto, proprio un'identità anche a tutta la parte artistica. Poi in realtà se pensiamo proprio posting per brand e robe del genere, in realtà sono nuovo da pochissimo, appena ho cominciato a fare quei pochi numeri in più, ti parlo di due anni fa, due anni fa che poi ecco i brand si sono voluti, hanno cominciato ad associarsi un po' anche alla mia immagine. Quanto è importante oggigiorno stare sui social? Sui social ad oggi è importantissimo, no? È la vetrina più grande che è soprattutto gratuita, che può aiutare a spingere nel mio caso la mia arte, la mia immagine e tutto quanto, ma come dico sempre, qualsiasi attività, qualsiasi professione, qualsiasi piattaforme come Instagram, come TikTok e via dicendo, ti danno la possibilità di arrivare a tantissime persone in pochissimo tempo, no? Mentre prima si investiva su televisione, questo, quest'altro, ormai la televisione d'oggi per i giovani sono queste piattaforme, quindi appunto essendo gratuite da sciocchi non usufruirne. Quanto è difficile stare sui social? Stare sui social è un lavoro, è un lavoro, se poi ecco, come ti stavo dicendo, diventa una professione, anche semplicemente collaborare con i brand, molto spesso uno pensa, vabbè, devi fare la foto posta, fatta, il gioco è fatto. Invece no, è proprio un lavoro, infatti nel mio caso, dove una professione già c'era, dove ci stavano già i tatuaggi che comunque occupano molto spesso il 100% delle mie giornate, è complicatissimo, no? Devi trovare l'incastro giusto e far combaciare tutto quanto e quindi ecco, ritorniamo al punto di prima, diventa difficilissimo trovare il tempo per diversi momenti di relax, quindi sì, è un lavoro, è un lavoro. I social, che paure ti generano? Nessun tipo di paura, nel senso, come ti dicevo, la mia professione principale è il tatuaggio, quindi se domani dovessero, basta, chiudiamo, non esistono più i social, per carità sarebbe la perdita di una vetrina enorme, ma io comunque continuo a lavorare, continuo la mia vita, ok? Invece se dovessi vederla da tutto il punto di vista, sai, i commenti, i hating, tutta quella roba, oppure non mi frega assolutamente niente, nel senso, non sono cose che soffro che, nonostante possa capitare il commento dove scappa l'insulto, dove scappa questo, quest'altro, eh? Mi sciacqua proprio, quindi paure assolutamente no. Come dicevamo, sono consapevoli della potenza e del valore che abbiano i social, però, insomma, se mi dovessero levare i tatuaggi sarebbe un altro discorso, capito? È un surplus. Quanto contano i numeri? I numeri sono fondamentali, come dicevo prima, no? Contribuiscono poi a dare proprio valore percepito, quindi molto spesso, anche se un contenuto non è eccezionale, ma i numeri sotto sono belli strong, automaticamente a casa uno pensa, wow, sta roba è figa, no? Ti faccio un esempio, tutte le hit radiofoniche, no? Magari esce una canzone che al primo ascolto ci fa schifo? Dici, mamma mia, la gente come si fa a ascoltare sta roba? Come fai a proporre una roba del genere? Poi vengono pompate, 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 si pompano i numeri, tutto quanto, la senti tutti i giorni in radio, dopo due settimane stai là che la canti a squarciacola e la canzone della tua estate, no? È così per ogni contenuto. Se c'è la persona X che dice che quel contenuto, che quel prodotto è figo, automaticamente per il pubblico, per la massa diventa figo. Quindi i numeri sono importanti. Detto ciò, non vuol dire che se un contenuto è scadente automaticamente, se c'è tanti numeri, no? Assolutamente, bisogna un attimo equilibrare le cose. Cosa cambieresti dei social? Allora, cosa cambierai dei social? Una soluzione per risolvere tutto, ecco, un po' questo fattore dei numeri sarebbe appunto eliminare i numeri. Nel senso, quando Instagram propose la storia dei like, no? Hai visto che hanno levato tutti i like. Per me era una cosa fighissima, perché io mi soffermavo sul contenuto, mi piace il contenuto, non mi faccio condizionare dei numeri. Tant'è che se te apri il mio Instagram, io non c'ho i like. Io ancora non li vedo, perché c'era l'opzione, li aggiungiamo, non li aggiungiamo, ma io mi trovo tanto bene. Quindi, secondo me, sta storia dei numeri poi dà un po' alla testa, sta storia numeri, classifiche, questo, quest'altro, ti fa usci un po' fuori di testa e automaticamente ti porta ad una competizione che non è sana, no? Nel mio caso faccio arte, il fatto che nei tatuaggi non ci siano classifiche, non ci siano robe del genere, mi fa esprimere al 100%. Invece, magari, io mi lego sempre ecco poi dal punto di vista musicale e mi interfaccio un po' con quel mondo, avendoci la compagna mia che fa musica, tanti amici che fanno musica, lavorando anche in quest'ambito, mi rendo conto che molto spesso la classifica e il numero condiziona poi tutto il tuo estro, tutta la tua arte, ok? Quindi si fa, porto avanti un progetto, propongo un progetto per fare numeri, non perché è quello che voglio proporre. Secondo me è lì che poi ammazzi l'arte. Da quando hai iniziato? I social ti hanno cambiato? Assolutamente sì. Mi hanno cambiato in primis la mia routine, no? Io prima finivo il tatuaggio, tornavo a casa. Se volevo giocare alla play, giocavo alla play. Se volevo andare al parco col cane, andavo al parco col cane. Adesso una volta che ho staccato è come se attaccassi poi un altro turno lavorativo. Quindi in primis la routine. Per quanto riguarda tutto il fattore umano mi sento di dirti di no, ma anche perché non è che ho numeri o una fama tale che dici cazzo, questo si è montato la testa, capito? Che non posso girare per strada. Poi è capito che mi chiedono la foto, ma nella mia situazione è solo piacevole, capito? Non è quella situazione cavolo, non posso mangiare cena fuori, non posso... Quindi dal punto di vista umano, il rapporto con i ragazzi, con i clienti, eh? Quella roba no, semplicemente una roba più, dico più... di tempo, di routine, sai, trovarsi lo spazio per mille cose. Ritorniamo sempre al punto primo, capito? Sempre la questione del tempo. Mi hanno solo tolto tempo. Mi hanno dato tanto altro, ma mi hanno tolto tanto tempo. Sei consapevole di quanto la tua persona ti ha influente? Allora, sì. Nel senso, tutto quel discorso è... dici questo sui social, dici quest'altro sui social, può condizionare i più piccolini, può condizionare... Io, proprio per questo, ma anche quando avevo 2000 follower, non è mai cambiato nulla, non mi esprimo a priori su tutto... su tutte le robe sociali, che possano essere politiche, e questo, e quest'altro, tutte le polemiche che possano nascere, io mi faccio sempre i cavoli miei. Se te apri il mio Instagram, guardi le mie storie, cerco di trasmettere sempre spensieratezza, cerco sempre di non esprimermi riguardo cose un po' più solide, più importanti. Magari sbaglio, eh? Magari sbaglio perché, come dici te, potrei essere influente per far passare un messaggio giusto, che però da altre persone potrebbe essere visto in maniera scorretta. Non esiste il giusto e il corretto, bisogna sempre vedere da quale punto si analizza la cosa, quindi cerco di evitare sempre... ti faccio un esempio. Quando è successa la cosa dei colori, i tatuaggi a colori, basta, non si fanno più illegali, là sono sceso in campo perché avevo delle competenze, ma che io mi metta a esprimere parere e giudizio su argomenti dove non sono super ferrato, la trovo una roba un po' inutile, no? E comunque sia, come ti dicevo, magari esprimo pure un parere giusto, una roba... però c'è sempre il rischio che ti metti contro qualcuno, quindi su Instagram mio, TikTok, sul mio profilo TikTok, Instagram, cerco sempre di essere un po' più, ti dico banalmente, superficiale, ok? Un po' più cazzeggio. Conto con te essere originali. Allora, proprio oggi faccio sto discorso, no? Mi hanno chiesto che è l'identità, cos'è l'identità secondo te? E io ho risposto che per me l'identità è sinonimo di autenticità, ok? Di originalità. Ti faccio un esempio nel mio campo, nel mio settore, il tatuaggio, no? Sono originale quando divento riconoscibile, ok? Quando vedi passare Mario che ha un braccio tatuato e dico, ah cavolo, quel tatuaggio l'ha fatto Gabriele Anagin, l'ha fatto Tizio, l'ha fatto Gaio, ok? Quindi vuol dire che mi sono inventato qualcosa e che l'ho fatto mio. Per me essere originali è questo, inventarsi una roba che ti contraddistingue poi da tutto il resto, da tutta la massa, qualsiasi campo, che possa essere il tatuaggio, che possa essere un format tolking, è originale perché è un'intervista durante una sessione di tatuaggio, no? È una roba che non hai mai visto, no? Poi che ti possa piacere, far schifo, quello che ti pare, però è originale, è una cosa nuova. Questo è il mio concetto di originalità. Cosa intrattiene uno spettatore davanti in format che si ripete? Allora, sicuramente al giorno d'oggi, appunto perché come dicevo lo spettatore è abituato a mille contenuti, anche contenuti di spessore, si è creata una situazione un po' di stallo, ok? Dove i ragazzi preferiscono più, si è sviluppato un po' il gusto dell'orrido, no? Ok? Quella cosa fa talmente schifo che mi piace, quindi guarda, l'esempio proprio assoluto è TikTok, no? Se io faccio un contenuto fighissimo sulla piattaforma, ok? Studiato, lo condivido, non se lo caga nessuno. Faccio un video dove, che cavolo ne so, vado al bagno, intanto mi faccio lo shampoo mentre c'è una scimmia che balla, quella roba, no? È fighissima, capito? Perché alla gente piace quella roba lì, no? Un po' dire quello che tira la frecciatina a quell'altro, metti, ti faccio un esempio, sempre in campo musicale, artista X fa la data live, nessuno si fila la data live, poi che succede? Tirano un cubetto di ghiaccio, va, virale la cosa perché hanno tirato il cubetto di ghiaccio in testa a quell'altro. È un discorso un po', dovremo sacco a parlarne per ore. Ovviamente io so, tengo botta e so super fan del contenuto figo, indipendentemente da poi tutto il contorno che ci sta dietro d'ecco, gossip o robe del genere. Inoltre adesso c'è un po', è difficile portare il contenuto corposo perché le piattaforme ci hanno abituato con i reel, con i tiktok, a contenuti super fast, capito? Che durano dieci secondi e poi muoiono. Di conseguenza è difficile trattenere lo spettatore, attirare l'attenzione per contenuti che magari durano mezz'ora, no? Che poi, che cos'è mezz'ora? Non è assolutamente niente. Però noi ormai siamo abituati alla serie, alla puntata che dura 20 minuti, al tiktok che te lo guardi, te fai due risate, Massimo te lo vedi un'altra volta, poi subito ne vuoi vedere un altro, no? Quindi è sempre più duro, è sempre più difficile non fare contenuti usa e getta, capito? Anche il post, magari fai il post fighissimo su Instagram, dura 24 ore, complici le storie, le storie di Instagram, fai il contenuto su YouTube, dura una settimana, il film, esce la serie nuova, te la spari tutta di fretta così, subito dopo ne vuoi un'altra, ne vuoi vedere un'altra, quindi siamo un po', siamo abituati male. Da cosa sei ispirato? Cosa ti spinge a condividere? L'ispirazione è una storia un po' particolare, perché a volte sei colmo d'ispirazione, vuoi fare mille cose, c'hai mille idee, poi ci sono momenti invece, periodi più o meno lunghi, che invece sei fermo e non sai cosa tirare fuori, non sai cosa proporre e via dicendo, la soluzione migliore per la ricerca dell'ispirazione secondo me è contornarsi delle persone giuste, no? Può sembrare un'ovvietà, può sembrare una frase detta e ridetta, però se c'è tante persone intorno che si muovono nel modo giusto, che hanno le energie giuste, che fanno il loro, automaticamente ti spronano a dare il meglio anche nel tuo campo, anche se poi la persona che è accanto fa il pizzaiolo, però ci mette quella dedizione, quella passione e tutto quanto, poi ti sprona a fare lo stesso. Poi nel campo artistico, come ti dicevo, l'ispirazione va e viene, un po' in base alle esperienze che vivi, a quello che combini, poi ti puoi sentire più o meno ispirato. Può essere che ti metti davanti alla televisione, ti vedi in film e ti viene l'ispirazione per fare un contenuto, un tatuaggio fighissimo, scrive l'album della tua vita, possiamo prendere ispirazione da qualsiasi cosa, da qualsiasi persona. Cos'è per te la creatività? Essere creativi, ti parlo un attimo adesso del mio percorso, di quello, c'ho un cagnolino che mi assale, di quello che mi riguarda. Essere creativi per me può essere banalmente inventarsi il progetto nuovo, ok? Poi da proporre come tatuaggio, accostare in un determinato modo dei colori, fino ad arrivare poi a tutto l'altro lato, che può essere social, format o via dicendo, che parte dalla scenografia della location per l'intervista che preparo, fino ad arrivare anche banalmente alle domande che pongo poi al mio ospite, così per parlarti anche del format. È tutto il lato poi artistico e lavorativo che creo, sempre per rimanere originali, quindi la creatività, non vorrei essere ripetitivo, però è sempre legato all'originalità, all'ispirazione, trovo un nesso in tutte le cose. Quanto contano le collaborazioni con le aziende? Com'è il rapporto con loro? Ti lasciano libero o ti danno vincoli che limitano la tua creatività e modo di essere? Allora, dipende sempre da ogni singola campagna, da ogni singolo brand, cioè il brand che ti lascia più libero e ti lascia un po' esprimere, che vuole te perché tu porti quel tipo di contenuto e gli va benissimo quel tipo di contenuto. Ci sono altri brand che magari si associano a te, vogliono associarsi a te, però poi ti mettono mille paletti e vogliono che il prodotto esca come dicono loro, che io dico ma perché mi hai chiamato? Ma chiama tizio X che rispecchia quelle... però uno poi cerca di trovare sempre il compromesso giusto per far sì che non esca una roba che poi non è nelle mie corde, nelle tue corde e così via dicendo. Quindi dipende sempre dal tipo di campagna, dipende sempre dall'azienda con la quale si collabora. Per te stare sui social è un lavoro? Eh, assolutamente sì. Poi ti dico, se ripenso al... è un lavoro che però non... che mi diverte, ok? Quindi anche i tatuaggi per me sono un lavoro, però mi piace farli. Mo' ovviamente spero che nessun cliente senta sta roba, però io se domani mi dicessero vieni al lavoro a gratis lo farei lo stesso. Prima che il brand X mi pagasse per fare determinato post, io comunque le foto così da piacione mi piaceva metterle, capito? L'ho sempre fatto. Indipendentemente poi dai numeri che ci stanno dietro, che possano essere numeri like o numeri che possono... soldi, no? Mi piace, mi diverto. Quindi sì, è assolutamente un lavoro, è assolutamente un lavoro, ma sempre legandomi al fattore tempo, capito? La roba che mi tolgo nel tempo, non è che sono là scocciato di farlo, per me è divertimento. Poi magari ribecchiamoci da 10 anni e mi sarò stupato e te dico sì, non gliela faccio più. Adesso che è una roba fresca sto... sono spensierato, capito? Lo fai più per lavoro o per spirito di condivisione barra voglia di creare? Eh, come ti dicevo prima, è così, perché è una roba che mi fa star bene, non tanto il condividere quanto il progettare tutto in precedenza, no? Poi, che ti devo dire, è ovvio che se in più riesci a legarci il lavoro è solo un bene, no? Siamo ancora più felici di farlo. Lo faresti ugualmente se non ci fosse un guadagno? Magari non... magari ecco, quando hai un lavoro con un brand, hai delle scadenze, come dicevamo prima, hai dei paletti che prima non avevo, no? Se prima volevo postare una foto così, col paio di scarpe nuove che mi ero comprato, lo facevo, se non mandava non lo facevo e via dicendo. L'unico paletto è questo. Per quanto riguarda invece i contenuti che possano essere il format, interviste, quella roba lì YouTube, eh? Quello è puro divertimento, è puro piacere di condivisione. È un progetto che mi piace portare avanti, che mi piace coltivare. Poi, che porti i soldi o meno? No, assolutamente. È nato che anzi, investiamo, crediamoci e tutte le persone che c'erano dietro hanno dovuto crederci per farsi che si costruisse qualcosa di interessante. Ricordi quando è cominciato a funzionare? Io ti racconto tre step diversi, tre percorsi paralleli che sono in primis i tatuaggi, che sono fortunatamente andati bene sin da subito, perché ho iniziato molto giovane, avevo 17 anni, con queste comitive immense, piene di ragazzetti che appena ho cominciato a tatuare, appena ho avuto una macchinetta in mano, subito si sono affidati a me, no? E per quanto riguarda i brand, è una roba che è venuta col tempo con estrema spensieratezza, che mi proponano la cosa, figo, facciamolo, è un surplus. Quindi non è una roba che ho ricercato, che ho... non ci ho lavorato tanto, è venuto da sé. E quindi non saprei dirtelo. Se domani dove si smette di lavorare con i brand, ho pace, se poi ricomincio bene, se poi rismetto, sti cavoli, capito? Mentre con Tolkien, stessa cosa, siamo stati fortunatissimi perché sin da subito, nonostante il canale fosse vergine, che non avesse iscritti, non avesse video, banalmente, è andato subito bene, perché ho avuto la fortuna di associarmi subito a personaggi che comunque funzionavano, personaggi interessanti da intervistare, personaggi che magari davanti a una telecamera sapevano stare e ho avuto la fortuna anche di avere un team che inizialmente, anche se amatoriale, comunque sapeva fare il suo lavoro e sapeva far venire figo, far uscire figo il contenuto, capito? Quindi tu lo vedevi e nonostante fossimo alle prime armi, non dicevi, vabbè, comunque la roba era catchy, spaccava, quindi sono stato fortunato anche in quel campo. Cosa ti gratifica di più di quello che fai? La mia compagna me lo rimprovera sempre, no? Che io sono un super lavoratore e mi piace lavorare, mi piace creare nuove cose, nuovi progetti, no? Mi rimprovera il fatto che se mai domani dovessi portare a compimento un progetto che va benissimo, eh, comunque sarai insoddisfatto perché ne ho avviato un altro, no? Quindi ecco, secondo me la cosa che più mi gratifica non è l'arrivo, non è l'arrivo al successo, al traguardo, bensì portare avanti quel progetto e farlo crescere, ok? Riesco magari con i tatuaggi che vedo che va bene, porto avanti un'altra cosa, ne creo un'altra, magari quella roba va bene, già sto a pensare a quella dopo, eh, perché mi piace, mi piace un po' tutto questo spirito qua, questa roba di partorire nuove idee, di metterle in atto, di farle crescere. Cosa faresti oggi se non avessi intrapreso questa strada? È difficile, non lo so, non lo so, magari in un multiverso parallelo sto a curare i cagnolini, non lo so, a fai vaccini per i cuccioli, l'immagino così, immagino. Dove ti vedi in futuro? Me lo chiedeva l'altro giorno un mio amico, in realtà non so dirtelo, perché qua la vita pare che cambia di sei mesi in sei mesi, no? Quindi io magari adesso ti potrei dare una risposta, ma tra due mesi veramente la situazione è completamente stravolta e l'arrivo è completamente distaccato da quello che mi ero prefissato, quindi beccamose tra sei mesi e ti faccio sapere. Rifaresti tutto? Allora, ti dico, col senno di poi, vedendo come sono andate le cose, come stanno andando, ti direi di sì, ti dico di sì, nonostante comunque sia ci sia stato un super lavoro e ne è passata di acqua sotto i ponti, ne ho fatte di cose, nonostante il mio percorso sia stato bello lineare e piacevole, perché come ti dicevo mi sono sempre divertito a fare ciò che faccio, comunque, cavolo, capito? Non so, sicuramente con la consapevolezza di adesso ricomincia e ti ricordi tutto quello che hai dovuto, ti dico di no, se ti dicono torni semplicemente indietro nel tempo, ricominci da capo, però non sai nulla, sì, ovvio, non farei a cambio, io sono felice. Chi è Gabriele? Cosa non sappiamo di te? Io adesso ti do una risposta, che può sembrare banale, che sicuramente tutti quanti l'hanno detto anche nelle altre interviste, io so quello che poi condivido, ok? Senza filtri, senza tante altre cose, sicuramente con mille sfaccettature negative che poi si riversano nel quotidiano, qua, voraccia là e mille altre robe, però comunque provo ad arrivare al mio pubblico con estrema trasparenza, no? Perché penso che sia il metodo migliore appunto per arrivare alle persone. Penso che poi dall'esterno si percepisca quando si mette una maschera o si crea un personaggio che in molti casi può funzionare, ma in altri magari no. E dato che io sono nuovo sui social, si può dire così, secondo me si percepirebbe. Quindi come mi rapporto con l'amico mio, col cliente in studio, col mio ospite in puntata, o con i ragazzi che seguono un video su TikTok, cioè so quello. Che consiglio ti senti di dare a me che stai cominciando? Io ti devo dare pochi consigli perché in realtà stai facendo tutto in maniera perfetta, nel senso niente di più di quello che faccio pure io. Quindi che consiglio ti posso dare? Mettiti a tatuare mentre ti posso dire. No, stai facendo tutto in maniera proprio pulita. Quindi proprio appunto per il fatto che pure io sono nuovo non posso dare a te consigli validi. Dovresti chiedere a chi sta da più tempo su piattaforme o chi fa da più tempo interviste, no? Le mie interviste sono proprio amatoriali, capito? Io metto il rec e mi diverto. Quindi ecco, divertite, poi che te frega di tutto il resto. Basta essere felice. Grazie mille. Grazie a te. Adesso che ti ho conosciuto un po' di più ti porto nel mio mondo. Vorrei ritrarti tramite ciò che amo fare, la fotografia, e condividerti attraverso ciò che tu mi pare e che io sto incominciando a fare. I contenuti social. Ok, affare fatto. Ti sono capitati aneddoti? Ma per quanto riguarda proprio l'organizzazione? Senza fannomi, eh? Le storie, le vicende? Ti sei ritrovato l'edit? Ma chi me l'ha fatto fa?